Avete visto come sbatteva quella palla sulle ginocchia e come si muoveva la coscia di Victor Rosimane mentre portava a spasso mezza difesa cagliaritana. E quando sembra che l'abbia persa è proprio lì che riesce ad avventarsi sulla palla e a rubare il tempo a tutti. Ed è la giocata secondo me decisiva ai fini dei tre punti perché poi in una partita dove abbiamo visto tanto, tanto, tanto occasioni soprattutto nel primo tempo pali, ribaltamenti perché subito segna il Napoli, pareggia il Cagliari. Abbiamo visto anche un errore grossolano dell'arbitro che secondo me annula un gol regolarissimo. Abbiamo visto tanto anche oggi di tante cose buone e tante cose in evocative ma in tutto ciò quella palla ripeto fa proprio quel rumore non sordo, non un rumore sordo ma un rumore che è un eco, se le porta a spasso e via. Che giocata, Victor. Oh sì, meno un giocatore che ribadisco il far reparto da solo. Per me è un giocatore che fa reparto da solo, assolutamente. Quanto mi piacerebbe una coppia d'attacco Lautaro-Martinez-Sosimento. Secondo me sarebbe una roba devastante. Veramente da top al mondo, eh ragazzi. Ma veramente è una roba devastante. Adesso però parliamo di Napoli-Cagliari, una partita che comunque, eh, diciamo che è stata più complicata del previsto anche per motivi che ho espresso prima. Ne parliamo. Prima se volete vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale, a condividere il video su Facebook, a fare le classiche cose di rito sempre se vi va e se avete la voglia di supportarmi. Ma, vi ricordo anche il partner ufficiale del canale, il partner ufficiale anche della serie A, Socios.com, ragazzi miei, che per chi ancora non lo sapesse stiamo parlando di un brand. Anzi, bisogna utilizzare l'articolo corretto del brand numero uno per Fan Engagement e Rewards, che in soldone, povere, no? È un'applicazione che premia la passione dei tifosi. Dà modo proprio al tifoso di sentirsi più attivo, no? È più protagonista, come direte voi, attraverso i fan token e l'interazione appunto con l'app. E tramite tutto ciò potete riscattare, come dicevo prima, premi importanti, come vedere la vostra squadra del cuore, o meglio, i beniamini della vostra squadra del cuore. Una partita, i biglietti, quindi, della partita, riscaldamento a bordo campo. Ci stanno una marea di possibilità. Quindi, come vi ho mostrato, tramite l'utilizzo in app potete anche rispondere a pronostici, a quiz. E maggiormente sarà l'interazione più possibilità di riscattare premi. Ci sono, per cui, se non l'avete ancora fatto, link in descrizione, scaricate l'app che è gratuita, registratevi selezionando la vostra squadra del cuore, io ho messo l'intro, ma voi ovviamente potete mettere Napoli o altre squadre della Serie A. E niente, sostanzialmente questo è. Fatelo, fatelo, perché ci sta, ci sta alla grandissima. Detto ciò, partiamo con l'analisi. Sì, nel primo tempo io mi aspettavo un Napoli che dilagasse. E forse se avesse segnato nel primo tempo, il Napoli avrebbe dilagato, perché era padrone del campo, il Cagliari. Poi, devo dire, qualche occasione anche nel primo tempo c'è stata, per esempio, il contropiede di Nandez e la parata di Manette. Che bisogna dirlo, sempre un pochettino messo ai margini, ma è stato nella fattispecie anche abbastanza decisivo. Però c'è stata una netta padronanza del Napoli, sia dal punto di vista del possesso palla, sia dal punto di vista degli uomini che ha portato in aria. Tanti movimenti delle mezzale, per esempio Anguissa, molte volte si è buttato dentro. Anche lo stesso Cajuste, ho visto una squadra senza ombre di dubbio molto molto attiva, però mi aspettavo che nel primo tempo appunto il Napoli la sblocasse. Non è successo questo, ci è andata vicina, anche col palo di Rachmani e tante altre situazioni. Ma poi Ranieri è un po' la giustata, ne ha messi praticamente un blocco fermo da 5 lì dietro nel secondo tempo, ha messo una muraglia ed è stato complicato. Forse ho venuto anche un po' meno l'energia nel secondo tempo, nel senso che il Napoli mi sembra quasi che non riesca a tenere per 90 minuti sempre lo stesso. Cioè è anche normale, per carità, però vedo, l'ho visto, almeno ripeto, magari è una percezione mia e sbaglierò clamorosamente e correggetemi pure tranquillamente. Ma a me sembra che ci siano 50-60 minuti di partita. Per esempio mi viene in mente la partita con l'Inter, che poi, vabbè, è una partita che si è giocata sugli episodi, tutto quello che mi pare. Ma nel finale un po' di... cioè non nel finale, rispetto al primo tempo c'è una squadra sempre che fa più fatica. Però bisogna dirla che oggi, sull'1-1, fai l'1-0, che non era facile da sbloccare, subisci l'1-1, hai la forza di andare a fare il 2-1. Più che forza, devo dire anche la verità, che è una grande giocata di Ossiman. Cioè, se c'è Ossiman, che ribadiscono ancora, vatti, fa il reparto da solo, diventa poi più facile, perché ci sono delle giocate che spostano. Cioè, non c'è niente da fare, ci sono delle giocate che spostano. Quella giocata poi ha portato al gol di Kvara. Vediamo un bene per lo stesso Kvara, perché aveva bisogno, no? Di un gol del genere che sbloccasse anche un po' di fiducia. Che poi, noi stiamo qui a parlare di Kvara, sempre, no? Rispetto allo scorso anno, però Kvara, ragazzi, ha preso parte, leggevo sta statistica di Opta, ha preso parte a 30 gol, 17 assist in 49 partite di Serie A. Cioè, dal 2004-2005, solo Berardi, nelle prime 31, Berardi, 31, ah no, 31. Nel senso che, scusate, vi sto facendo, vi sto innaquando la testa. Kvara ha fatto 17 reti e 13 assist, quindi ha preso parte a 30 gol. Solo Berardi, con 31, quindi prendendo parte a 31 gol, nelle prime 42 partite, ha fatto meglio. Anche Pato, in realtà, che ha partecipato a 30, sì, va bene. Solo due, solo altri due giocatori sono sopra ad oggi, ripeto, per, come si può dire, per booster che hanno dato immediatamente alla squadra con cui hanno giocato, no? Un booster immediato che va alla schiera. Quindi, un giocatore che spesso diciamo, no, ha fatto la prima annata, adesso no. Kvara è un giocatore devastante. Anche al primo tempo, quando fa, no, quel... No, si fa passare la palla sotto le gambe e manda a vuoto, no, il difensore. Quella è una grande giocata. È una giocata che se non hai qualità non vai, c'è poco da fare. Poi è normale che, rispetto al primo anno, magari i giocatori lo raddoppiano, lo triplicano ed è più difficile. Poi, quando giochi sempre contro difese schierate, diventa molto, molto complicato. Tutte queste cose bisogna sottolinearle. E, per completezza di analisi, nel momento in cui ha anche un giocatore che gli fa solo la sovrapposizione, secondo me le cose cambiano. Con Mario Rui, secondo me le cose cambiano. Cioè, Mario Rui, tanto discutibile in fase difensiva, per una questione sia di centimetri, anche magari per atteggiamento, attitudine difensiva, ma, senza ombra di dubbio, palla al piede è una risorsa. Ripeto, sia per Kvara, perché gli porta via o un uomo, o è pronto lì a fare la sovrapposizione, e così nasce anche il primo gol. La grande pennellata del professore Mario Rui, ragazzi miei, eh. Quindi, io tutto questo ce lo butterei dentro nel calderone e nel ragionamento. Per chiudere, continuo a vedere, non problemi difensivi, continuo a pensare che purtroppo ci sono giocatori che abbassano il livello lì dietro. Uno di questi, per me, sbaglierò, ma è Joan Jesus. Cioè, per esperienza fatta sia all'Inter, visto sia alla Roma, è un giocatore che, secondo me, sposta in negativo gli equilibri. Oggi rischiava di accappottare la partita al Napoli, perché se è perso completamente Pavoletti in aria, bravissimo Pavoletti, ci mancherebbe altro, è un attaccante rapace fortissimo, senza ombra di dubbio. Ma Joan Jesus lì deve fare meglio, non può, ripeto, non è che stiamo parlando che tu quello devi fare, perlomeno devi provare a ostacolarlo, invece se l'è proprio perso. E, in un'altra circostanza, nel finale, non so se l'avete visto, Dossena sulla punizione, c'è Joan Jesus che va completamente a far falle, e Dossena ha avuto un'altra grande chance. Per cui, francamente, continuo a pensare che lì dietro al Napoli manchi qualcosa, che l'assenza di Kim abbia assolutamente indebolito la difesa del Napoli. Quindi, vedremo, fatto stare che oggi il Napoli aveva bisogno assolutamente di vincere, lo ha fatto, si riporta più due, pur con una partita in più momentaneamente da Roma, Bologna, e quindi, oggi si doveva vincere basta il Napoli, ha fatto di tutto per vincerla, bisogna dirlo, e lo ha fatto. Quindi, buono per il Napoli di mazzarri. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likecate se volete iscrivervi al canale. Un grande abbraccio. Ciao.